Buonasera, benvenuti allo Scumble Feast di Saraghiro TV Questo è lo sconvolto Allora, passiamo alle domande Se in questa discoteca siamo a 2400 E vogliamo dividerci in sei gruppi Ogni gruppo, quante persone è composto? Un gruppo, un gruppo, diciamo 40 persone Aspetta, no, 2400 divisi in sei gruppi 400 Va bene Scumble Feast di Saraghiro TV In questa discoteca ci sono 1500 uomini e 500 donne Se noi prendiamo il totale degli uomini e togliamo le donne diviso due Quante persone rimangono nel locale? Come due? Allora, siamo 2500 500 sono le donne Noi togliamo la metà delle donne dal totale della discoteca Quante persone rimangono? 1250 100 100 100 100 180 100 100 100 1 1 2 1 2 2 3 2 2 3 3 3 Grazie a tutti.